Oggi un evento importante quello che si colloca in un periodo appunto che è quello del 25 novembre ma che sostanzialmente ci dice che deve essere un appuntamento, un momento di riflessione per tutto l'anno. Sì, un momento di riflessione che cade tra l'altro in un ambito anche territoriale, nazionale in cui c'è una grande discussione sull'argomento. Noi l'avevamo organizzato, era stato organizzato prima quindi con la precisa volontà di tenere acceso questo riflettore su questo argomento che oggi si dibatte in maniera anche molto interessante e devo dire partecipata. È uno di quegli argomenti che non si dovrebbero spegnere i riflettori, che invece si accendono solo quando ci sono purtroppo tragedie o drammatici casi come quelli che ultimamente ci hanno coinvolto, hanno coinvolto tutti quanti emotivamente parlo. Perché? Perché fa parte di cultura, fa parte di ragionamento, fa parte anche di un'educazione che si dovrebbe dare costantemente ma soprattutto di raccogliere segnali che vengono dal vicino, dalla persona che hai come amico o parente o anche semplice conoscente. E qui si devono innestare poi professionalità che sono interventi delle forze di polizia o della magistratura o degli assistenti sociali che possano poi fare squadra. Se manca però l'informazione, se manca l'attenzione, se manca la cultura, se manca la sensibilità nei confronti di questi argomenti purtroppo succederanno sempre le tragedie. Dovevamo imparare tutti ad adeguare linguaggi, metodi, modi e anche professionalità da mettere in campo. Oggi questo convegno si va ad incastonare in queste celebrazioni importanti. Sì, è molto importante perché quest'oggi non soltanto ci sono poliziotti, ci sono tutti gli operatori del settore. Abbiamo avvocati, abbiamo assistenti sociali, abbiamo psicologi, abbiamo anche persone che appartengono alle altre istituzioni. Il momento è delicato, sappiamo bene quello che è successo pochi giorni fa e abbiamo appreso con grande soddisfazione il fatto che la Camera del Senato all'unanimità abbia approvato questo disegno di legge che per un verso introduce misure nuove e per un altro verso rafforza quelle esistenti. È un problema sociale che ovviamente va affrontato a diverse latitudini dove dalla famiglia fino ad arrivare ad altre agenzie educative come la scuola come anche le istituzioni che sono impegnate a contrastare, a prevenire questo fenomeno e quindi la magistratura, le forze dell'ordine, sono tutte chiamate alla massima attenzione. Un confegno come questo serve a riflettere su questa problematica ma serve anche a migliorarsi attraverso il confronto. L'appuntamento importante, quello che si svolge oggi qui a Catanzaro che precede poi quella che è la giornata contro la violenza sulle donne per eliminare la violenza sulle donne è in un periodo anche abbastanza particolare per il nostro Paese il governo porta avanti anche un decreto legge che già era stato avviato, leader per l'approvazione, oggi in questi giorni ha trovato l'unanimità da parte delle forze politiche che siedono in Parlamento. Una giornata importante voluta dall'FSP, sindacato di Polizia, ovviamente insieme all'Associazione Astarte che pone dei temi molto importanti ma pone soprattutto in essere secondo me quella sottolineatura di un decreto che ha visto ieri la luce con approvazione all'unanimità al Senato rispetto al femminicidio non è stata ovviamente l'onda emotiva della brutta e dolorosissima pagina di Giulia Cecchin ma un lavoro di mesi che ovviamente aveva nelle proprie corde la volontà di rafforzare già un importante strumento come quello del Codice Rosso attraverso ovviamente ulteriori possibilità che vanno al braccialetto elettronico, alla sorveglianza per le vittime piuttosto che all'arresto di ferito piuttosto che alla possibilità da parte del questore di poter diffidare in tempi molto più brave la possibilità per la magistratura di stare nell'arco di un certo tempo per prendere delle decisioni figure professionali. Non servono sicuramente soltanto gli strumenti legislativi serve una rivoluzione culturale che parta ovviamente alle famiglie, alle scuole, alla società tutta e che sia in grado in qualche modo di insegnare il rispetto per l'altro, il rispetto per la libertà per la sacralità della vita. Oggi attraverso la testimonianza anche della rappresentante dell'associazione Astarte comprendiamo quanto fosse complicato nel 2006, quanti passi in avanti e soprattutto cercare di far capire alle ragazze di cogliere qualunque segnale, anche il minimo segnale rispetto a quello che deve essere la denuncia perché non saranno sole e non ci sarà l'isolamento. Sottolineo anche 20 milioni in più di euro rispetto ai centri antiviolenza nella manovra finanziaria. Proprio a sottolineare che lo Stato appoggia queste donne, che non le lascia isolate e soprattutto che c'è la volontà di prendersene cura. Astarte e FSP Polizia oggi portano qui presso il polifunzionale della Polizia di Stato un importante evento che si colloca in un momento anche abbastanza particolare per il nostro Paese ma è un momento che riguarda praticamente tutti gli anni, ogni mese, ogni giorno. Esatto, per noi questo è un posto familiare in quanto ci veniamo spesso, nel momento in cui accompagniamo le ragazze che comunque si rivolgono a noi. Tra l'altro la questura è il posto più vicino proprio come sede dell'associazione quindi ci vede frequentemente presenti e tra l'altro è anche vicino all'ospedale. Quindi nel momento in cui soccorriamo le donne vittime di violenza il passaggio in questura è quasi automatico quindi questo posto è abbastanza familiare per noi. Diciamo che questo è un periodo particolare non solo perché è il 25 novembre quindi la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne ma soprattutto per gli eventi di cronaca che in questi ultimi giorni insomma ci hanno fatto ascoltare delle cose chiaramente molto brutte che appunto sono quelle che si riferiscono a Giulia Cecchettin. L'inizio è l'approvazione di una legge. Io penso che ancora ci sia tanto da fare e noi ci troviamo tutti i giorni a combattere ed avere delle difficoltà oggettive nel nostro lavoro perché poi ogni volta si ripresentano dei casi nuovi. Noi quest'anno ad esempio abbiamo seguito molte donne che subiscono violenza dei propri figli. Questo è un tasto che purtroppo stiamo toccando in una maniera molto notevole. Abbiamo avuto numerosissime richieste e quindi stiamo cercando di specializzarci proprio per quanto riguarda questo argomento. La violenza di genere nel contesto familiare lo raccontava all'interno della sua tesi di laurea. Oggi è divenuto un argomento centrale che va portato avanti non solo in questi momenti, in questi periodi particolari come quello che sta vivendo il nostro paese ma tutti i giorni. Sì, è un argomento che io affronto nelle mie tesi proprio perché dedico la mia tesi a mia madre, un'altra donna vittima di femminicidio. Io sono una vittima assistita quindi posso raccontare la sua voce, dare voce non solo a lei ma a tutte le donne che ancora oggi subiscono violenza oppure ad altre donne che comunque non sono riuscite a farcela. Nella mia tesi parlo non solo del femminicidio ma anche della violenza di genere perché proprio oggi la donna viene vista come un oggetto, un oggetto da possedere ma questo è una deontologia sbagliata, un messaggio sbagliato che la società manda. Quindi bisogna partire dalla base, dalla base di educare i bambini sin da piccoli a non dover limitare niente a nessuno. Quindi io mi auguro che chi mi ascolta il mio racconto, la mia esperienza drammatica e non mi auguro che nessuno possa vivere sia un aiuto, la forza a tutte quelle donne che non riescono ad uscire da quel contesto domestico. Io dico soltanto che loro devono uscire, in qualsiasi costo devono uscire, devono farsi aiutare dalla persona più cara che si avvicino di chiamare le forze dell'ordine, di chiamare i centri antiviolenza. Quindi c'è 22 che è tipo 24 ore su 24 perché c'è gente che è competente, che le aiuta e non sono da sole. Quindi nessuno le giudica ma noi siamo qui pronti ad aiutarle sempre. Sì, noi con l'associazione Start abbiamo già collaborato su temi che a parte da un punto di vista lavorativo comunque ci interessano anche l'evoluzione che anche la parte legislativa ha avuto. Se prendiamo il caso di specie, il cosiddetto codice rosso è stato approvato nel 2019, agosto 2019 e nonostante ciò i femminicidi sono aumentati. Lei pensa che nel 2022 sono stati 104, a novembre di quest'anno siamo già a 106 con l'ultimo caso che è quello di Giulia Cecchettini che porta ancora più attuale questo tema. Quindi da un punto di vista sindacale abbiamo ritenuto opportuno affrontare e discutere, analizzare questa problematica anche dal punto di vista legislativo perché per poter contrastare questo tipo di violenza credo che si debba fare rete. Rete per le associazioni da un punto di vista di supporto psicologico e degli operatori di polizia e anche su un aspetto tecnico su come approcciarsi perché il primo problema è che l'approccio alla vittima quindi farla sentire sicura e quindi denunciare che è la cosa principale, non sottostare al nostro tipo di violenza e denunciare sempre.